L'abbraccio di gruppo a fine partita, la gioia per i primi tre punti della stagione, il Gravina batte un colpo, Murgiani che vincono al vicino per la prima volta in campionato, battendo 1-0 il Martina dopo una settimana di fuoco per la panchina, Summeragone confermati con riserva e il primo risultato è arrivato. Il derby pugliese è praticamente deciso ad inizio primo tempo, minuto 13, corner per il Gravina, Lauria conclude, Capitano Ligorio con la testa rende il pallone imprendibile per Figliola e già 1-0, padroni di casa che sulle ali dell'entusiasmo sfiorano anche il raddoppio con il palo di Parisi tutto solo da destra, grande occasione, primi segnali di Martina con la punizione di Ancora, mascolo in presa. Sempre gli ospiti, insidiosi, poco dopo su corner, colpo di testa di Meneses, neoacquisto arrivato in settimana, palla alta, prima dell'intervallo Lauria conclude nuovamente in porta, palla deviata in angolo, squadra a riposo con il Gravina avanti nel punteggio. Nella ripresa non mancano le emozioni, corner per il Martina, ancora Meneses, pericoloso ma non basta, il Gravina risponde con la conclusione di Zappacosta, botta forte, out di poco. Nel finale c'è solo la squadra di Mister Pizzulli a caccia del pari, occasione clamorosa per Meneses e Sus, a pochi centimetri dalla porta non riescono a siglare il vantaggio, incredibile doppia chance. Ancora ci riprova su punizione ma non è giornata per il capitano degli ospiti, assalto finale, calcio d'angolo per il Martina e colpo di testa a lato. Nulla di fatto, anche nell'azione successiva con Diaz e Pinto, pericolo che sfuma, finisce con la prima vittoria stagionale del Gravina che nel prossimo turno sarà di scena sul campo del Lavello per il Martina. Nessuna vittoria nelle ultime cinque uscite in campionato, nel turno infrasettimanale c'è la sfida interna con Francavila in Sydney per riscattarsi.